Dato l'andamento storico, il periodo particolare che i tassi si stanno abbassando, volevo cogliere l'opportunità di cercare una banca che mi permettesse di ridurre la durata del mutuo, visto che tra le banche che avevano un tasso più basso per la durata che mi tornava più comodo c'era la BNL. La sua prima ansia è sicuramente il fattore tempo e quindi con questo nuovo strumento quest'ansia viene meno. La cosa che mi ha sorpreso è che appunto Rosa mi ha confermato che nell'arco di solo cinque giorni la banca in qualche modo mi avrebbe già fatto sapere se ero un cliente idoneo ad ottenere la surroda oppure no. Effettivamente è stato così, passati cinque giorni ho ricevuto la chiamata e ho visto il suo nome, ho risposto subito, pensavo ci fossero problemi in realtà, non che sarebbe andata bene. Quindi quando ha risposto e mi ha detto tutto ok, abbiamo avuto l'ok e mi è rimasto molto contento. La reazione del cliente che molto spesso anche nel caso di Federico è stata quasi una reazione di incredulità e di stupore è veramente una gran bella soddisfazione professionale. Lui ho assolutamente consigliato a tutti di provare a passare comunque in BNL e quantomeno chiacchierare con loro.